Maestria elementare del personaggio sì che comunque non ci aiuta, però dai proviamo. No, credevo di averla fatta. Ok, abbiamo perso un po' di tempo. Eh, vabbè, può capitare. La miseria è data in accalmata. Scatter! Skyward! Let me name Echo and Zone! You're too! Nice and fake! Cease the sky! Be sanctified! Silence! La miseria è data in accalmata. Si attacchi inutili, dai, forza! Fa stranissimo vedere i neoviletti in quel modo, lo so, per questo l'ho messo. Ecco, qua rientriamo nel campo dei nemici abbastanza odiosi. Però abbiamo il tempo, eh. Il tempo ce l'abbiamo per fare... Ecco, fantastico. Cominciamo già benissimo. Ok, su due ci siamo. No, non è crescita, dai, ma non ci credo. Lo posso dire, questi nemici sono odiosi. Servono solamente a farti perdere tempo. Non è sfida. Non è assolutamente sfida. Per fortuna ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti. Maestria elementale, sì. Per fortuna ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, basta con sta roba. Cazzo di nemici idioti. No, non l'abbiamo... Vino buttato al vento. Perché questa è rimasta così tanto lontano? Peccato, abbiamo perso 20 secondi inutilmente. Ok, ci siamo. Qua stiamo perdendo solamente tempo. Ok, abbiamo recuperato ora. Dobbiamo aspettare che poi lui si ferma, altrimenti non riusciamo a fargli danno. Ok, buono. Mi serve un'altra window. Ok, buono. È finita, è finita. Mi manca un colpettino. Ok, meno male. Meno male. Ti ripeto, è odioso. È odioso perché questo nemico si fa i cazzi suoi. Però a prescindere da questo, dai. Ce la stiamo facendo con Shen Yun undernivellata. E stile di gioco piuttosto particolare, se mi permette. Ok, ultima sfida. Questo ci riduce la difesa e aumenta l'attacco. Perché no? Perché no? Mannaggia, devo ridirezionare meglio le mie abilità. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Ottimo. Eh, ma Shen Yun non è buona. Che brutta roba, Shen Yun. Che brutta roba, Shen. Let's light it up. Teamwork is stripped. As one with wind and clouds. Storm the front. Flash. There is no escape. Torn to oblivion. Buonissima. E tanti saluti anche a questo Spiral Abyss. Allora, i personaggi undernivellati si possono utilizzare nello Spiral Abyss. Basta fare attenzione, basta avere un minimo di build. Poi certo, io qua c'ho Shen Yun C0, è la sua arma che mi aiuta molto. La build fa molto schifo. La troverete nei video per gli abbonati. Però, insomma, si può usare. Sì, è strano vedere il signorino Neovilletti che fa su e giù, su e giù. Però è una cosina divertente. Sì, è strano, è strano, è strano, è strano. Sì, è strano, è strano.